amici della coppa italia drf benvenuti a gara 2 siamo a fano la casa madre della coppa italia andiamo subito a scoprire la pista e dunque gate di partenza poi subito verso questo cavatappi a scendere bandiera gate poi virata sinistra verso il gate slalom in mezzo a queste tre bandiere e via verso il tree gate a salire che si fa a chiocciola in questo modo poi via verso il dive in reversa tornare indietro verso questo big gate che si prende a salire e poi questo muro parallelo di tre gate che si eseguono in questo modo ultimo bandiera cavatappi verso il cubo parte alta quindi cavatappi a scendere virata a sinistra gate e cubo parte bassa poi muro gate e via verso il traguardo pista molto bella tecnica anche veloce in pieno stile coppa italia disegnata dai ragazzi della drf insieme al nostro direttore di gara beppe rinaldi e allora buona gara a tutti ciao 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 ciao